Ciao a tutti ragazzi, io sono Alf112 e quest'oggi vi farò un altro piccolo video su come superare la quarta missione di Aquaman, completo una prova a tempo di nuoto a moli molesti. Allora, innanzitutto ragazzi vi consiglio di eseguire questa prova nella modalità arena, in modo tale che nessuno venga a rompervi le scatole, ovviamente arena modalità singolo. Ecco qua, tutto pronto ragazzi, si parte. Eccoci qua ragazzi, innanzitutto dovete posizionare, dovete atterrare in questa zona, ecco qua, qui noi ci avviciniamo un po', ci lanceremo, con la speranza che non vengono altri player a romperci le scatole, perché la missione è abbastanza semplice, però bisogna essere da soli. Potete farlo in arena o in rissa squadra. Ecco qua, ecco lì il punto ragazzi. C'è un altro player, non ci nascondiamo. Vabbè, lui è impegnato lì, noi andiamo a fare la nostra prova, subito, subito. Attivate la prova e via! La prova a tempo, quindi bisogna fare abbastanza veloce ragazzi. Ok. Ci siamo quasi. Vai. Ecco, completata la prova ragazzi. Mi sono spaventato perché ho perso un po' di tempo, che avevo paura di quel nemico, però diciamo che la prova è stata completata con successo. Eccoci qua ragazzi. Abbiamo riscattato la nostra conchiglia suprema della quarta missione di Aquaman. E anche questo video è terminato ragazzi. Mi raccomando, lasciate tanti like, condividete questo video tutorial con i vostri amici, ed iscrivetevi su tutti i miei social. Noi ci ritroveremo al prossimo video. Grazie mille e alla prossima. Ciao ragazzi! Ciao!